Abbiamo interessato la magia e la difficoltà per chiedere la vita pubblica e anche di chi possiamo essere. Quindi faremo sicuramente il presentatore, però dovremmo pensare anche di cosa, di chi potremmo essere, oltre alla condizione del bisogno. Anche non un personaggio di eredità nella nuova, ma anche dalla biografia, perché riusciamo a inserirlo in questa storia perché ci siamo andati a questo con me.